Storie di distruzione nel Terramano che si intrecciano con la solidarietà dell'Italia intera a favore di questa provincia martoriata. Nel piazzale dell'ex villeroi a Teramo si stoccano quintali e quintali di fieno, avena, orzo, farina di mais che arrivano da ogni regione italiana per poter sfamare gli animali rimasti senza cibo in montagna. Colonnello, grande solidarietà dal mondo agricolo per gli animali che stanno morendo di fame. E voi, come forestale, state portando questo mangiare a loro? Ci stiamo impegnando in questo arduo compito perché con quello che è successo ovviamente non è facile organizzarsi. Gli aiuti avvengono via aerea, via terrestre e anche direttamente. La cosa bella del mondo agricolo, di un mondo di cui si parla sempre poco, di cui non si conoscono molti aspetti, è la solidarietà che c'è. È una solidarietà non solo terramana, non solo abruzzese, ma è una solidarietà che viene anche da fuori, viene dalle Marche, viene dal Veneto, viene dalla Lombardia. In questi ultimi due giorni quale zona avete raggiunto? Noi abbiamo raggiunto, ora siamo partiti soprattutto con i mezzi aerei, abbiamo servito Valle Castellana, Rocca Santa Maria e quindi oggi proseguono sempre in quella direttrice. Immagini che solo ieri noi abbiamo servito 27 aziende, 27, abbiamo consegnato 83 quintali di granaglie e abbiamo consegnato 800 quintali di fieno, che sono una quantità importante. E poi c'è la storia di una famosa azienda di salumieri di Castelcastagna, che da quasi mezzo secolo produce alimenti nostrani di incredibile qualità. 11 stalle crollate, centinaia di suini sotto 3 metri di neve dopo una settimana dalla grande nevicata aggravata dall'ultimo sisma. Una tragedia economica ma anche sociale, dalla quale sarà difficile riprendersi per le comunità montane. È una situazione francamente mai ricordata, una botta alla zootecnia che forse metterà in ginocchio l'Abruzzo. Spero che questo faccia rendere conto le autorità che necessita un intervento non da poco. Quanti animali le sono morti? Attualmente non sappiamo, io ho diverse stalle, quindi stiamo cercando anche tramite i vigili del fuoco a tirar fuori gli animali ancora vivi. Ma perché sono sotto la neve ancora? Sono sotto la neve, parliamo di 3 metri di neve, non parliamo di centimetri e consideriamo poi che una neve è così pesante mai ricordata e quindi la situazione è stata veramente tragica. Cosa chiedete agli amministratori? Poco a burocrazia e tanto immediato supporto alle aziende zootecniche.